Mamma mia, che cos'è la Massa Marmocchi? La Massa Marmocchi accompagna in bici a scuola i bambini Insieme a volontari e genitori Sono dieci anni che aiutiamo i genitori ad accompagnare i figli a scuola in bicicletta Da un mese soltanto che faccio il volontario Io lo faccio da circa quattro anni Vorremmo che sia possibile per tutte le famiglie, tutte le scuole Questa non è una scampagnata, questa è una manifestazione Chiede che nella città vengano realizzati interventi al fine di mettere al sicuro tutte le persone che si spostano in strada Eccoci qui, approcciamo a Palazzo Marino Dove c'è tutta l'altra moltitudine di bambini in bicicletta con i loro genitori Crediamo che la strada sia di tutti Noi pensiamo che le strade sono di tutti partendo proprio dai bambini Voglio sentire i bambini un urlo da solo dai bambini E' stato muovendo Nel 2023 abbiamo bisogno di riprogettare la nostra città e mettere al centro le persone Le amministrazioni hanno il compito di effettuare scelte coraggiose Siamo qui perché c'è ancora bisogno di noi, la voglia di cambiamento delle persone c'è E l'obiettivo è fare in modo che Massa Marmocchi si estingua da solo, che non serva più E' una festa con un filo di tristezza secondo me perché quando abbiamo iniziato speravamo che la città si abituasse ad andare in bici da sola Invece questo non è successo quindi servono ancora gruppi che accompagnano i genitori a scuola in bici però insomma confidiamo che sia l'ultimo decennale che festeggiamo Richiede anche uno sforzo maggiore da tutte le città, da tutte le amministrazioni per i bambini perché questo è il futuro Di fare un cambio di passo, è arrivato il momento in cui non si può più tentennare Gli attivisti, anche alcuni consiglieri fanno un lavoraccio, si fanno un mazzo così diciamo e spesso incontrano l'opposizione addirittura all'interno dei propri gruppi Non preoccupatevi del consenso, cercate un po' di pensare in più al bene delle persone e soprattutto al bene delle generazioni future Gli attivisti, anche se spieghi la città, ci sono i nostri spieghi la città Allora, ci sono i nostri spieghi la città, ci sono i nostri spieghi la città Grazie a tutti.